Il drammatico aumento delle bollette è argomento centrale degli interventi che il leader della Lega Matteo Salvini sta tenendo in questi giorni di campagna elettorale anche in Puglia. Tappa su lungomare di Barletta questa mattina per ribadire gli impegni contro la legge Fornero e contro gli sbarchi clandestini per attaccare la gestione della sanità in Puglia da parte del presidente Emiliano e per ricordare che la Lega non ha candidato virologi star ma, per esempio, il presidente dell'Unione Italiana Cecchi. Sul palco del lungomare di Barletta, insieme a Salvini, i candidati di questo territorio, il giovane consigliere comunale leghista della città della disfida e si affaccia per un saluto anche il sindaco Cannito. Ma, come detto, è sui temi che più preoccupano cittadini e imprese che il leghista interviene per indicare le prospettive, le soluzioni immediate e quelle che adottano le amministrazioni in cui è presente la Lega, come accade in Basilicata. Bollette triplicate però già adesso, se vuole le faccio vedere quella di Telesveva. Come si fa nel breve termine? Allora, l'Europa, se vuole, può intervenire oggi pomeriggio mettendo un tetto europeo al prezzo del gas. Però alcuni paesi, Germania e Olanda, dicono di no. Quindi noi non possiamo aspettare i comodi di Germania e Olanda. Quindi quello che si può fare adesso è mettere un limite nazionale all'aumento dei costi. Ieri ero in Basilicata, nella confinante Basilicata, e grazie a un accordo fra Regione e Eni, voluto dalla Lega, dal primo ottobre, i cittadini della Basilicata pagheranno il gas zero, come materia prima, zero, per almeno tre anni. Avranno la bolletta del gas più bassa di tutta Italia. Se si fa in Basilicata, penso che si possa fare in Puglia, trattando con le aziende, con Eni, con Enel, con A2A, con IREN, con chi produce petrolio, con chi lo raffina, perché le aziende stanno guadagnando miliardi di euro. Chiedere a queste aziende di guadagnare un pochino di meno per abbassare le bollette è qualcosa che il governo può fare già da oggi. C'è un governo in carica, c'è Draghi, Presidente del Consiglio. Se l'Europa non muoverà un dito, come ahimè ogni tanto ha fatto in passato, l'Italia può e deve muoversi da sola. In prospettiva, l'ho detto prima, reinvestire nel nucleare è fondamentale, perché nei prossimi anni potremo essere liberi energeticamente solo usando anche questa energia, oltre le energie rinnovabili, le energie alternative, però servono anche gas e nucleare.